Una matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Siamo tornati qua, su un nuovo video di Fortnite in compagnia di RON! Ma cazzo ci hai riuscito, un bastardo! Why you bullying me? Bella Ah no, no, bella! Io non so come, ma te lo aspettavi, bastardo? FBI OPEN! Allora, mi raccomando, cerchiamo di superare i 35.000 like Paracaduno sulle spalle e le sulle spalle Ah, che bocce bucce! Quanti sono qua, raga? Nope De lui! Porca troia! Non ho fatto un tempo! Non ho fatto un tempo! Ok Ok Oh wait, guarda, guarda! Oh my God! Guarda, guarda, mannaggia... Comunque ho gente qua da me ragazzi Raga al contrario di Delu Io ho fatto fuori il E.Team perchè lo vedi dato,non perchè lui era praticamente morto OHHHHH Ma a me mi vuoi Eh eh guai A me guai in shotta Che ti farei Ma no Coglioso Fai Atterrato Bello eh Gabbo? Bello complimenti Sei molto simpatico Sai Gabbo? La tua simpatia No no tieni Gabbo tieni Se no non fai una kill Prendi prendi Oh Vabbè ma io devo pensare I miei amici Scusa eh Arriviamo Anima Ah ok Gabbo Ti è amico mio Dato che tu comunque hai problemi Why are you bullying me? In questo gioco tieni Rimuove amico Tip client From server Dai no Fuck 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 Oh No dai La pebba No no Il ciaccone Quello grande 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 Quello grande Chi vuole Fugile da caccia 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 Ci vuole da caccia Tu caccia Quindi non viaga Fugile da caccia Fugile da caccia Wanda Io Lo Lo Ro Ro Grazie a tutti